Fa ancora caldo, però le giornate sono più corte e ogni tanto qualche temporale arriva a ricordare che l'estate volge al termine. Nella cittadina agropolese la vita è meno caotica, i turisti che affollavano spiagge e strade sono andati via, lunghe code di automobili e parcheggi pieni sono ormai tornati alla normalità ed è tempo ora anche di bilanci per una città a vocazione turistica. Con l'estate si potenziano i servizi, o meglio si dovrebbero potenziare i servizi, soprattutto quelli sanitari, ma la città di Agropoli non ha ottenuto neanche per questa stagione estiva quello che era stato promesso. Agropoli è la più grande città del comprensorio cilentano e proprio nel periodo estivo la sua popolazione triplica, ma neanche questo dato ha suscitato interesse verso l'asla salernitana. D'ormai più di due anni si promettono servizi che però non arrivano o tardano ad arrivare, mancano i reparti dedicati all'emergenza, l'assistenza sanitaria H24 come il laboratorio analisi e la radiologia con annesse e sale operatorie ad oggi non sono state garantite ai cittadini del posto che ancora aspettano. Di fatto l'ospedale civile agropolese resta un centro ambulatoriale ad indirizzo oncologico e hospice con 20 posti letto di medicina e un centro territoriale diurno per i disturbi del comportamento alimentare, come riportato dall'ultimo piano ospedaliero approvato nel dicembre 2018. Per patologie più gravi bisogna recarsi, se si fa in tempo, in altre strutture attrezzate distanti naturalmente da Agropoli. Da Palazzo di Città ribadiscono che il percorso intrapreso a piccoli passi e in silenzio darà i suoi frutti. Noi abbiamo detto in questi giorni che stiamo lavorando in silenzio e non vediamo l'ora di poter comunicare i risultati ottenuti. Mi auguro che nei prossimi giorni potremo convocarvi e parlarne perché credo che dei passi in avanti importanti siano stati fatti, però come ho detto nell'ultimo Consiglio Comunale, finché non vediamo concretamente che le cose siano realizzate, non ci fermeremo nel nostro lavoro costante di pressione. Però mi auguro veramente nei prossimi giorni dare delle notizie positive. Quindi è possibile ottenere qualche servizio in più magari per la prossima stagione autunnale e invernale? Assolutamente sì, stiamo lavorando per questo ma credo che tutto questo si realizzerà.